Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Sto cercando un nuovo percorso. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Uscire adesso. Voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Voltare a sinistra. Uscire adesso. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Uscire adesso. Andare dritto. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Tenersi a sinistra. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Andare dritto. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Andare dritto. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. 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 Alla rotatoria prendere la prima Koukori Torri Grazie a tutti. 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 Andare dritto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.